Ciao a tutti, buona vista al vostro Hector Elio della Peña Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostela in spagnolo A tutti ragazzi, allegria Siamo tristi perché abbiamo perso la schedina purtroppo Eccoci Perché abbiamo perso la schedina Però la Juventus ha vinto grazie alla doppietta di Ronaldo Primo tempo e secondo tempo dominati totalmente alla Juventus La Juventus e Lazio vingono in ugual misura, in ugual modo Sto dominando le partite giocate Sienti ragazzi Guardate, perché mangio troppi cibi piccanti Comunque guardate la barba tagliata E quindi niente Lazio e la Juventus sono le squadre più forti della banda Ha pareggiato Una partita equilibratissima contro lo Spezia E questo è quanto ragazzi Quindi questo Era Lazio stradominato La partita Nel primo tempo Segnando con Girmobile Nel secondo tempo Facendo una splendida rete concorre Questo è quanto ragazzi A presto al vostro Hector Elio della Peña Valbuena e Spindosa di Santiago Compostelli Spagnoli A tutti ragazzi Allegria Mi ringrazio sempre comunque Forza Lazio Bella A domani con la schedina di Hector Elio Forse puntata 15 Ci vedremo Buona la prima Grazie a tutti Grazie a tutti